novena a san pio da pedralcina quarto giorno nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen o dio viene a salvarmi signore vieni presto in mio aiuto o san pio che hai conosciuto la sofferenza della carne che ti sei adoperato senza posa per aiutare gli altri a sopportare il dolore fa che anche noi animati dal tuo spirito possiamo affrontare ogni avversità ed impariamo ad imitare le tue eroiche virtù amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen